La ricetta che andiamo a presentare sono dei cubotti di filetto di vitello con una salsa di liquirizia. Andiamo a tagliare il nostro filetto di vitello in una dadolata regolare, lo facciamo rosolare in padella con un poco di olio. Una volta fermata tutti i lati dalla nostra carne, lo allontaniamo dalla padella e lo mettiamo in un piatto. Nel frattempo andiamo a sgrassare la padella con un po' di vino bianco. Andiamo ad aggiungere la liquirizia pura, facciamo disciogliere il tutto, dopodiché andiamo a far raffreddare, a far legare la nostra salsa con un poco di maizena. Nel frattempo abbiamo pulito i nostri carciofi sbarbati, tagliati a listarelle, le andiamo a infarinare con un poco di maizena e le andiamo a friggere. Una volta pronto tutto andiamo a mettere all'interno di un flute i pezzetti di filetto rosolato e i nostri carciofi fritti. Per ultimo andiamo a mettere la nostra salsa.